Ciao Stefano, per l'abbinamento con i bocconcini di pollo al curry di oggi ho portato il nostro chardonnay Tolloi, un vino prodotto con sole uve chardonnay coltivate esclusivamente nel comune di Salorno, quindi in Alto Adige. Tolloi è la linea di mezza corona altoatesina. Un vino che si presenta potente di grande impatto e gran piacevolezza gusto olfattiva, con un colore giallo pallerino luminoso alla vista e un impronta olfattiva riconoscibile e molto piacevole. Lo chardonnay si esprime con queste note fruttate mature, una componente floreale e un richiamo agrumato che poi si lega al frutto maturo e richiama per esempio la frutta esotica come ad esempio ananas e un po' anche di papaya. Al palato l'acilità è la componente principale, bella la salivazione che slancia la beva e lo tiene agile, fresco, piacevole, per nulla stucchevole, ottimo per l'abbinamento e con i suoi sapori ottimo anche per incontrare le spezie che usiamo oggi nei nostri bocconcini. Per apprezzarla al meglio io consiglio sempre calice piuttosto ampio e consiglio di estrarre dal frigorifero un 7-8 minuti prima in modo che non sia totalmente freddo e si possono percepire al massimo i riconoscimenti olfattivi e gustativi. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo abbinamento.